Ciao amici carissimi, eccoci qua sulla spiaggia di Marina di Bibbona, quest'oggi una giornata meravigliosa, il mare è a dir poco bellissimo, stupendo, è un amore. Come potete vedere in lontananza si scorgono nelle nostre, la nostra isola più bella dell'arcipelago toscano che è l'isola d'Elba con il promontorio piombinese, guardate lì, oggi si vede veramente tutto tutto, c'è anche un pescatore. Guardate, guardate, ci spostiamo, intravediamo cosa? La Corsica, la Corsica è naturalmente la nostra isola di Capraia. Eccoci qua, e ancora laggiù, la sua, anzi, a Livorno con l'isoletta piccola, quella di Bibbona, io la vedo ma forse riuscite a intravedere, eh sì, un pochino l'intravedete anche voi. Girando, girando, eccoci qua, la splendida marina di Cecina con il suo porto turistico e qui naturalmente possiamo vedere tutto il legno che le mareggiate hanno portato sulla spiaggia. Ovviamente non è vera, sarà possibile, diciamo che come si è a maggior parte, lo verrà rimosso e messo in posto. Noi ci troviamo esattamente all'inizio della spiaggia per i nostri amici a quattro zampe, la mitica Dog Beach di Marina di Bibbona, e fino, fino, fino laggiù a Marina di Cecina. Ecco qui, questa l'hanno denominata molto la Beach. Qui poi ci sono vari stabilimenti balneari, per il momento naturalmente è tutto come potete vedere a riposo. Guardate, è bellissimo questo mare oggi, viene voglia di tuffarci, sì, come si fa. Guardate, che meraviglia, è una meraviglia delle meraviglie, vero? Sì, scusate, ma io, sarà perché sono di parte, sarà perché proprio, cioè, la gioia è infinita quando posso osservare tutta questa meraviglia, veramente, giuro, giuro. Guardate, che trasparenza, che limpidezza, guardate, oh come sarà. Ciao amici, un bacione, al prossimo video, ciao ciao!